Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Federica Pellegrini con delle gambe da capogiro. Sui social nessuno può resisterle la foto va virale Federica Pellegrini, la dea delle acque del panteon italiano, ha portato la nostra nazione alla ribalta nella sua disciplina per davvero tanti anni. Sappiamo bene quanto la donna sia forte. Considerata e definita come la divina, per i più è conosciuta come la più grande nuotatrice italiana storicamente riconosciuta nonché una delle più longeve in assoluto nella sua disciplina La Pellegrini, primatista mondiale nello stile libero nei 200 metri, oltre ad essere una sportiva molto amata e anche fortemente apprezzata per essere fisicamente impeccabile e stupenda. Il mondo della TV l'ha conosciuta anche per le sue esperienze nello spettacolo Basti pensare ad Italia's Got Talent e Pechino Express edizione 2022 Non spugge mai agli occhi indiscreti del popolo del web e della TV. Tutti ne ammirano la sua profonda bellezza.La foto che ha caricato su Instagram infatti non ha fatto altro che generare reazioni su reazioni. Tutti hanno commentato la foto con ingenti apprezzamenti nei confronti della donna Come se non bastasse, ovviamente, non sono mancati altri tipi di commenti Basta dare una occhiata a quanto segue.Federica Pellegrini si mostra su Instagram, gambe da perdere la testa Federica Pellegrini ha reso tutti amanti del nuoto. Bisogna però dire che anche in altri sport è molto brava, quasi vien da chiedere in quale siamo bravi noi, magari potresti saperlo cliccando qui Ha dalla sua parte una bellezza stratosferica. È risaputo infatti che la donna abbia due gambe da paura Su Instagram le ha mostrate per intero e bisogna ammettere che sono davvero sinuose Non è un effetto ottico, quelle gambe sono davvero lunghe e splendide La Pellegrini mostra un fianco stupendo nella foto pubblicata su Instagram Non sono mancati quindi i commenti di apprendimento.Non sono mancati i commenti di apprezzamento per i piedi della donna, nonché i suoi fianchi e le sue forme sinuose Immancabile il commento di suo marito che si è mostrato divertito dalla foto e non ha risposto ai commenti un po' indiscreti delle persone sotto la foto della moglie C'è chi la definisce una sirena in mare ed una divina fuori, chi la riempie di complimenti per le gambe da urlo e chi sottolinea quanto quel completino a strisce sia davvero perfetto per le sue forme La Pellegrini l'abbiamo vista in intimo Yamanei e non solo. In ogni sua foto rimane impeccabile ed eterea, marmorea come una statua greca È impossibile non apprezzare la sua bellezza da capogiro. Chiunque vedendola potrebbe svenire davanti a tanta bellezza Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti